Secondo un esperto di branding, la mancanza di apprezzamento da parte di Meghan Markle per il significato della monarchia nella società britannica è stata una delle ragioni principali per cui non è riuscita ad adattarsi alla vita della famiglia reale. Meghan, duchessa del Sussex, è entrata nei ranghi più alti della famiglia reale dopo aver sposato il principe Harry nel maggio 2018. Punto. Ma da allora la duchessa ha rivelato di essere impreparata a cosa significherebbe per lei un'introduzione in un punto fermo della società britannica altamente scrupolosamente scrupolosamente. La professoressa Cele Otnis, una professoressa di marketing specializzata nel modo in cui la famiglia reale si marchia, ha detto a Express.co.uk che questa lacuna nella comprensione dell'importanza dell'istituzione in Gran Bretagna ha segnato la differenza tra il successo di Meghan e Kate all'interno dell'azienda. L'autore di Royal Fever ha dichiarato, il Regno Unito è una società estremamente importante. E non credo che a Meghan interessasse, non essere britannica. Pensa alla differenza tra Kate che è britannica e come deve capire questa eredità, la stessa Meghan ha descritto il suo shock per le sue esperienze di conformità agli standard e alle procedure della famiglia reale. Parlando con Oprah Winfrey nell'orma infamigerata intervista a Tavolino nel marzo 2021, ha descritto come il giorno del suo matrimonio, che ha dato il via ai suoi doveri reali ufficiali, fosse un giorno per il mondo, non per il duca e la duchessa di Sussex. Ha detto, era come vivere un'esperienza extracorporea a cui ero molto presente. Penso che fossimo entrambi davvero consapevoli, anche in anticipo, questo non era il nostro giorno, questo era il giorno pianificato per il mondo. Dopo la cerimonia Winsor, ha ricordato come si fosse sentita in disaccordo con la formalità e il comportamento che ci si aspettava da lei, che sembravano così lontani da ciò che le era familiare. Meghan ha commentato, non c'era una guida. A differenza di quello che vedi nei film, non c'è una lezione su come parlare, come accavallare le gambe, come essere reali. Non mi è stato offerto. Non mi è stato offerto.